E' bastato un hashtag sui social Io Sto Conocchiuto per mobilitare l'intera città di Cosenza, una manifestazione spontanea che la società civile ha voluto organizzare per dimostrare affetto e vicinanza al suo ex sindaco e presidente della provincia Mario Cioto, ripudiato dai suoi stessi uomini in una notte di carnevale a quattro mesi dalla fine naturale della sua legislatura. La Cosenza libera dagli intrallazzi e dal killeraggio politico scende in piazza al grido di siamo tutti con te. E' una grande attestazione di stima, è come se la città si sentisse un po' orfano, non è tanto Mario Cioto il sindaco, ma è quello che diciamo la città è stata in questi anni che non può tornare indietro. E questa è la dimostrazione che i cittadini hanno capito e sono molto contento per questo. Mario Cioto non ha alcuna intenzione di mollare la presa nelle amministrative facendo retrocedere una città che ha conosciuto un'altra primavera. Per questo davanti alla sua gente, che è anche il suo elettorato, ribadisce i punti di forza del suo operato. Noi abbiamo fatto per esempio la raccolta differenziata, siamo l'unica città capoluogo in Galabria a fare la raccolta differenziata al 60%, non solo in Galabria ma una delle poche in tutto il sud, abbiamo risolto il problema anche del campo abusivo dei Rom sul fiume che era un problema anche di sicurezza urbana e sociale, abbiamo avviato delle opere di manutenzione della città con le cooperative che adesso lavorano, il verde, i piccoli interventi manutentivi. Abbiamo utilizzato tutte le risorse a disposizione europee che spesso andavano invece perdute. Rossana Muraca per la CNews24 Rossana Muraca per la CNews24